Devo dire che è un onore per Palermo e per la Sicilia e se il Renzi crede di avere un personaggio malleabile al colle secondo me avrà fatto il più grave errore della sua vita potrei sbagliare, ma è una persona, Sergio Vattarella che è una persona per bene, molto riservata, forse anche un po' timido però ha le sue idee, è una persona determinata una persona, quello che ci voleva Lei la conosce da parecchio? Sì, siamo condomini, abitiamo qua insieme da 30 anni, più di 30 anni Hai partecipato all'Unione di Condominio? Beh certo, naturalmente, sino all'ultima è stata il 27 e il 28 E c'era? Prego? E c'era? Certo, certo che c'era No, lui praticamente veniva sempre immagino che adesso sarà più difficile che venire all'Unione di Condominio potremmo andarci noi al Quirinale, forse a farle là Se vuole lasciare un messaggio per Martarella, un messaggio per Martarella cosa gli direbbe? Che sono veramente felice perché è arrivato al collo, è la persona, secondo me, la migliore che poteva esserci in assoluto Sono di grandissima umanità, una persona molto perbene e credo che abbia tutte le caratteristiche per rivestire questa carica importante anche politiche perché comunque quando è stato ministro della difesa lo ha svolto al meglio ha fatto delle scelte importanti quando dovevano andare fatte e quindi credo che... Come vi è l'attesa qui? Io ormai sono convinta che ce la farà quindi dico non ho... Siamo tutti contenti devo dire contenti per lui e per la sua famiglia che conosco e sono tutte persone molto perbene Grazie a tutti